Onorevole, una marcia importantissima stasera per la... Certo, è la marcia per non dimenticare. E non dimenticare vuol dire anche impegnarsi affinché concretamente non si ripetano le cose oggi. La presenza del Presidente Mattarella, quanto è importante per rappresentare l'unità di tutta la nazione? Abbiamo visto anche tutte le parti politiche alla marcia per Israele. Fondamentale, perché se la storia non è condivisa, se non c'è una storia condivisa, non c'è una nazione. E questa è la nostra storia condivisa.